A fine 2008, inizio del 2009, il brand Castello era un brand che aveva bisogno di un rilancio, di un nuovo posizionamento sul mercato, anche perché dopo un'attenta analisi fatta da società qualificate, che si occupano di posizionamenti strategici dei marchi sul mercato, avevamo notato che il brand si trovava in una posizione ibrida. Abbiamo iniziato a lavorare in maniera seria, senza andare a rivedere o stravolgere quella che è la ricetta, comunque una ricetta di antica tradizione, visto che possiamo vantare in questo stabilimento una antica produzione di birra e soprattutto birra di qualità, birra con una forte caratterizzazione a livello regionale, perché il territorio del Friuli ha sempre espresso le più grandi birrerie in Italia, quindi ancora oggi vantiamo grossi marchi di birra appunto provenienti da questo territorio. e quindi abbiamo fatto un lavoro di voler mantenere queste caratteristiche sia da un punto di vista qualitativo, quindi organelettiche del prodotto, e sia da un punto di vista territoriale, però allo stesso tempo bisognava ringiovanire, bisognava svecchiare il marchio e posizionarlo soprattutto in un target molto più adeguato rispetto a quello che abbiamo visto e stiamo vedendo ancora oggi, è il target di riferimento dei consumi di birra, cioè i giovani tra i 18 e i 25 anni. E quindi uno studio abbastanza approfondito per cercare di individuare alcune caratteristiche nell'ambito proprio della ricerca del design per dare un'immagine che potesse riscontrare un livello di accettazione piuttosto alto proprio per questi giovani, per questi giovani che amano consumare la birra e riconoscersi anche in questo momento di consumo attraverso un'immagine che appunto viene rappresentata o dalla bottiglia o dall'etichetta. Quindi noi non abbiamo fatto altro che percorrere un po' questa strada e oggi devo dire che questo riposizionamento del marchio ci ha dato dei grossi risultati, siamo tutti molto soddisfatti anche se riconosciamo di essere solamente all'inizio di questo percorso perché la birra a castello oggi può vantare una diffusione a livello territoriale, a livello nazionale di circa 50%, allo stesso tempo però come quota di mercato abbiamo bisogno di crescere per cui se il buongiorno si vede nel mattino sicuramente di una cosa siamo convinti è quella di aver intrapreso la strada giusta. Per quanto riguarda opportunità all'estero innanzitutto bisogna pensare sempre ai paesi ad alto consumo di birra e quindi in questo momento nonostante in Europa ci siano i consumi più alti a livello mondiale purtroppo il mercato in Europa è in forte contrazione quindi stiamo e soprattutto a forte caratterizzazione di grandi birrerie per cui noi stiamo guardando al mercato nordamericano che comunque è un mercato molto molto grosso e soprattutto c'è una grande cultura dello stile di vita italiano per cui si va dall'alta ristorazione al alla diffusione delle pizzerie dove comunque oggi c'è una forte richiesta di prodotti italiani e tra questi inizia a rientrare anche il gusto della birra italiana perché hanno iniziato ad apprezzare il prodotto. Oltre agli Stati Uniti bisogna guardare i paesi emergenti, per paesi emergenti mi riferisco soprattutto ai paesi asiatici dove stiamo assistendo a una forte escalation dei consumi in generale e loro hanno come dire come mito la cultura occidentale in generale in modo particolare l'Italia è molto più riconosciuta all'estero di quanto magari noi stessi qui non riusciamo a riconoscere la qualità o piuttosto che i successi di tanti prodotti italiani e per birra castello che siamo come dicevo prima appena all'inizio guardare i mercati esteri dobbiamo guardarli sempre con molta attenzione perché per poter diventare interlocutori primari per questi business e questi mercati bisogna investire molto per cui noi stiamo focalizzando prevalentemente sul mercato domestico, stiamo facendo export, noi esportiamo attualmente in America, negli Stati Uniti, in Canada, stiamo esportando in Nord Europa, in Australia, Singapore e stiamo adesso approcciando il mercato cinese come un mercato potenziale dove ci vedrà protagonisti a brevissimo con delle esportazioni di rilievo. Essere una birreria friulana per noi intanto è un motivo di grande orgoglio perché come dicevo anche prima la terra friulana ha sempre espresso grandi marchi di birra da Dreher a Moretti alla Dormish, anche se oggi la Dormish come marca non dice niente a nessuno mentre gli altri due citrati prima sicuramente rappresentano ancora oggi nell'immaginario ma soprattutto nei consumi sul territorio dei prodotti molto conosciuti. Però qui devo dire una cosa che sicuramente non farà piacere ai nostri amici della concorrenza e forse queste birre hanno trascurato l'importanza di rimanere radicati al territorio. Noi abbiamo recuperato sostanzialmente il fatto di essere una birra friulana mentre altri hanno abbandonato questa strada e noi la vogliamo appunto percorrere perché crediamo che il legame al territorio sia molto forte. Non bisogna perdere di vista questo grande patrimonio che abbiamo e quindi lo stiamo portando avanti. Quanto sia di valore aggiunto dipende dalla comunicazione che si riesce a fare e noi abbiamo puntato su questo evidenziando sulle nostre bottiglie, su tutte le bottiglie e sull'etichetta l'origine friulana e quindi l'abbiamo proprio riportato come birra friulana. Per gli addetti ai lavori è inutile ribadire che birra friulana è sinonimo di alta qualità.